Conto alla rovescia per il passaggio dell'Abruzzo in zona gialla, l'aumento esponenziale dei casi, dettato dall'elevatissima trasmissibilità della variante Omicron, ieri la regione ha avuto il record di casi in 24 ore, oltre 5.300 nuovi positivi, ha generato una crescita anche dei ricoveri in area medica, oltre 220, e in terapia intensiva, oltre 20. Dati al di là delle soglie del 15-10% rispettivamente, che, abbinati anche ad una incidenza già da tempo ampiamente superiore ai 50 casi, ogni 100.000 abitanti portano al cambio di colore. Gli indicatori purtroppo evidenziano quelle che sono, diciamo, i punti importanti per cambiare il colore, la zona della nostra regione. In effetti non cambia molto, questo lo dobbiamo dire. Quello che ci preoccupa è questo aumento esponenziale sia dei positivi, ma soprattutto in questo momento anche dell'occupazione dei posti letto, sia in area medica critica che da parte delle terapie intensive. Vorrei sottolineare che il 70% di questi posti letto purtroppo è occupato dalle persone non vaccinate, sono quelle a maggior rischio. Nella unità di crisi di ieri il governatore Marco Marsiglio ha fatto sapere che le regioni hanno chiesto al governo di rivedere la composizione dei parametri. C'è una alta incidenza di asintomatici che vanno in ospedale per altre patologie e che una volta scoperti vengono impropriamente computati. E questo è improprio perché in realtà quel sistema che avevamo individuato come regioni discutendo con il governo per imporre questo meccanismo serve a valutare quanto il covid impatta sugli ospedali e quindi le persone che finiscono in ospedale per colpa del covid e non che vengono scoperte casualmente e asintomatiche perché quello non ha nessuna incidenza da quel punto di vista sull'impatto sanitario. Le modifiche più sensibili sono tra la zona gialla e quella arancione, un evento da scongiurare e che si verifica quando si superano le soglie del 30% dei ricoveri in area medica e del 20% in terapia intensiva oltre che una incidenza superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti. Le attenzioni sono ora rivolte sugli screening della popolazione scolastica con il ritorno tra i banchi posticipato al 10 gennaio. È importante lo screening che stiamo portando avanti per la riapertura della scuola che sarà il 10 e nei giorni precedenti tra l'8 e il 9 si svolgerà lo screening su base volontaria di tutti i nostri ragazzi.